Cari amici i nostri video continuano, erano stati fatti in inverno con la pioggia, col freddo, oggi in questa torrida giornata di luglio, eccomi qua, che vi parlo di un'altra pianta meravigliosa, è l'orchidea del Mediterraneo, e cos'è questa orchidea? È il cappero, questa pianta bellissima, questo arbusto che cresce negli anfratti delle rocce, non ha bisogno di acqua, ed ecco che quest'anno c'è una grande siccità, il cappero, guardate che bello, che è verde, che è pieno, che è proprio incurante della siccità che danneggia tutte le altre piante. Il cappero è una pianta bellissima, viene dal Medio Oriente e il suo nome, se noi andiamo a guardare nella Bibbia, ha il sinonimo, è un sinonimo con appetito, quindi il cappero è qualcosa di importante per l'alimentazione, è un antiossidante, è uno stimolante dell'appetito e anche si dona molti minerali, ecco quello quindi che nei passaggi di stagione, ma anche in questo momento così caldo, in cui sudiamo molto, è un remineralizzante, un apporto di tanti minerali, però soprattutto di sodio e di potassio, quindi è estremamente interessante come complemento alla nostra alimentazione. E' interessante anche dire che il cappero non è un frutto come noi potremmo pensare, ma è un bocciolo di questo fiore, bellissimo fiore, non sbocciato, quindi è un bocciolo, quello che noi mangiamo, diremmo che noi raccogliamo e che poi mettiamo sotto sale, è un bocciolo. Queste sono le proprietà del cappero, di cui in realtà si parla poco nei libri e così via. Il cappero è ricchissimo non solo di canferolo, che è un antiossidante, ma è ricchissimo anche di quercetina. Se noi guardiamo il rapporto peso-contenuto, il cappero è la pianta che ha il maggior contenuto di quercetina. La quercetina è una molecola estremamente interessante perché, oltre ad essere un antiossidante, ma anche un antiallergico, si è rivelata utile anche nel Covid. Quindi nel Covid, assieme alla lattoferrina, alla berberina, a tante altre molecole che ho usato per fronteggiare questa epidemia che ci tormenta da due anni, anche la quercetina è estremamente importante. Ebbene, la quercetina è contenuta in grande quantità in questo frutto e quindi questo, chiamiamolo frutto tanto per intenderci, è molto utile proprio per curarci, per darci minerali, ma anche per rafforzare le difese immunitarie in patologie come il Covid che hanno una forte componente infiammatoria. E poi ricordiamoci, nelle intolleranze alimentari, i capperi possono essere un complemento molto interessante dell'alimentazione. Quindi la persona ha una lieve intolleranze alimentare, ma inserisce questa sostanza, questi capperi nell'alimentazione ed è un apporto estremamente interessante. Questa pianta quasi scompare d'inverno, poi in primavera riprende vigore e fiorisce per un lungo periodo, da maggio fino ad ottobre. E nel corso della fioritura fornisce continuamente questi frutti fiori, questi frutti boccioli che noi mangiamo e poi le formiche da qui prendono i semi che poi trasporteranno negli anfratti e diffonderanno la pianta. Quindi come assumerlo? Si raccogliono questi boccioli, questi boccioli non sbocciati che sono i capperi, si possono mettere sotto sale o anche sotto olio e si assumono poi deliziosamente dopo i pasti. C'è anche la, non so, pensiamo anche alla pizza, la pizza alla napoletana, oltre ad avere le acciughe e il pomodoro, è sempre condita con i capperi. Quindi il cappero dà un qualcosa di nutritivo maggiore, per cui oltre ad esserci il licopene del pomodoro, oltre ad esserci le proteine molto interessanti di le acciughe, abbiamo anche la quercetina dei capperi. Quindi un complemento alimentare estremamente interessante. Arrivederci al prossimo video.